Grazie a tutti. Sono molto lieto di aver potuto svolgere questa missione a Tunisi. Vorrei ringraziare le autorità tunisine per la loro accoglienza ed ospitalità. Gli incontri avuti oggi con il Presidente della Repubblica, Sayed, con il Ministro degli Esteri, Gerandì, si sono rivelati molto proficui perché hanno permesso di portare avanti e consolidare un dialogo mai interrotto con un Paese che per l'Italia è strategico, oltre che tradizionalmente amico. Tra poco avrò un incontro anche con la Capo del Governo. Con i miei interlocutori abbiamo anzitutto affrontato la situazione interna del Paese. Ho confermato che l'Italia guarda con interesse all'avvio di un percorso di riforme e scadenze politiche e costituzionali che dovrebbe auspicabilmente culminare in nuove elezioni legislative. Ho poi sottolineato l'importanza che il percorso avviato prosegua verso il pieno ristabilimento dello Stato di diritto e della normalità democratica ed è al tempo stesso importante che ciò avvenga attraverso un dialogo inclusivo, trasparente e sostanziale con tutte le componenti politiche e sociali del Paese, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali e promuovendo la stabilità e la crescita economica. Sul fronte delle relazioni bilaterali, in particolare quelle economico-commerciali, nel ribadire come la Tunisia sia un partner privilegiato dell'Italia anche grazie alla presenza di circa oltre 800 imprese italiane, ho espresso l'auspicio che si possa ulteriormente rafforzare questo partenariato.